Che parole ci dovrebbero essere per una situazione del genere? Non ci sono parole, in amore è difficile trovare parole, è difficile che qualcuno ti dia una parola, una frase, un consiglio forse per risollevarti e allora tu vai alla ricerca di qualcuno che ti possa dare un consiglio e gli uomini ce l'hanno, ci hanno amici da cui prendere un consiglio, ce l'hanno, gli uomini ce hanno parecchi amici e dove stanno di solito questi amici? Al bar, non tutti, l'altro stanno in bisca e allora tu vai al bar tirando fuori il miglior sorriso che ti viene per coprire un po' quel dolore d'amore e tu vai lì e saluti pure, ciao pi, ciao da, ciao fra, ciao sei, ciao pi, ciao da, ciao fra, ciao lei, ciao pi, ciao do, ciao fra, ciao pi, ciao ti, ciao lì, sempre sta a Pechino ciao pi, ciao pi, ciao do, ciao fra, ciao lei, ciao, oh ciao, ciao, 15 buca del centro, oh, ma se posso sapere che ha fatto? no, ma come no, c'è un grugno tanto, ma come no, c'è un grugno così lungo, no, come no, stai ostruendo la buca del centro, levate che c'è da un filare 15, 15 buca, oh, ma se posso sapere che ha fatto? la mia ragazza è cosa fanno, sono andate i gluti alle 5 pomeriggio 6 anni fa, le cose io ne so, sempre col cielo, che è cosa la pica su, stiamo troppo, lascio se li vediamo non ce li vediamo più lasse le perdere le donne, lasse le perdere le donne, ancora che saltare a te le donne, ricordati che la donna, quando che cosi, però dopo, allora vedi che vieni al discorso mio, ricordati, ancora che saltare a te le donne, guardate lo dico spassionatamente, perché la donna, quando che tu la cosi, che lei magari che sai, per esempio, un amico mio, ti faccio questo esempio per dirti tutto, un amico mio, c'aveva una ragazza in Inghilterra, questa dopo due anni viene, questa qua c'aveva una sorella che dopo un po' si fidanza con un altro, questi qui si sposano al matrimonio, c'era una zia, gli facevano male le scarpe, leva le scarpe, le mette in angolo, dopo un po' ne le trova più, questa dopo, si mette le ciabatte e va a casa, telefona la polizia, dice, senta, che sei dalla polizia, dice, ma la polizia, guardi noi le scarpe, ne trattiamo, chiamiamo i carabinieri, hanno chiamato i carabinieri, dopo un po', è arrivato un carabinieri, un maresciallo, un diviso, è arrivato, gli ha detto, questo signore, beh, quella gli fa, dice, che cosa vuole, dice, io neanche ne so, e se ne è annato, ha capito? No, un giorno capirai, perché ricordate con le tonne, due cose, bassone e carota, che porti, come che porti, come che porti, col bassone, con la carota, che tu, quando ce n'hai una, o magari ce n'hai due, perché te prendi l'odore e te li danno, se no, e te devi comprare mezzo chilo, e che, e che regala le carote qua, e fai, magari te li mangi crude, sono pure buone, se te li mangi lessi, con gocce di limone e d'olio, e fanno bene la vista, e col bastone, che tu ce l'hai, che, che, che vai a cercare i funghi, te poi arampica meglio, e poi prende le chiavi dentro al tombino, hai capito? No, un giorno capirai, perché adesso vedi tutto attraverso una nebbiolina, vedrai che un giorno ti si apparirà tutto come in un libro aperto, ricordatelo, questi sono gli uomini, e le donne, le donne sono...